Eccoci qua, allora prima di passare a ripercorrere un po' tutte le proprietà delle piante vi voglio far salutare la nostra Laura Peri, vieni qua Laura, eccola, non c'è festa dove non ci siano i polli, in questo caso i capponi, le faraone e l'anatramuta, sì, diciamo qualche animaletto all'aperto. Allora, Laura si poteva trovare un tempo nei mercati di campagna amica, adesso a forza tutti di volere questi suoi polli che hanno qualcosa di prodigioso e che lei firma proprio il pollo di Laura Peri, nei menù pensate nel Four Season di Peter Blu nell'allungarno di Villa Cora, il pollo di Laura Peri è proprio il massimo, marco stabile, insomma, questo è un pollo stellato. Diciamo è un pollo in cui io metto tutta la mia passione e lo allevo all'aperto e lo allevo diciamo nel metodo di una volta, perché viene allevato molto lentamente, mancia aganturco e granaglie intere, quindi ha una delle caratteristiche che è appunto il durello che è molto grande e perché appunto li digerisce tutto ciò che trova. Il durello è lo stomaco che quando si apre riserva tutte le sorprese dell'alimentazione, vero dottoressa? E quindi lavora un bel po'. Una meraviglia, sono un po' di fuori. E quindi sono diciamo allevati con passione. Aspetta, lo porto a far vedere la dottoressa perché aveva una domanda da farti. Vieni qua Laura, vieni. Guardi, questo è un cappone di una volta proprio, vero? Sì, è un cappone di una volta. Quando si vede questa cosa, Laura, veramente, uno dice ma guarda ancora come riusciamo a fare questo e invece vediamo tutti i due polli medri bianchi, ma non ci sa. Poi lei la conosco perché c'è un bellissimo bosco che conoscevo io da bambina. Ah, quindi il bosco dove vengono i poli e il bosco che lei conosceva da piccola. Infatti si è subito instaurata questa magica corrispondenza fra di loro. Lei cura i polli e io curo le piante. Quindi siamo molto molto vicine. Io curo la cucina e ho subito tutte e due. Dicevamo però, rispondeva lei durante l'intervallo a una domanda che ha fatto la dottoressa e che appunto forse interessa anche a voi perché la prima cosa che salta all'occhio è questo colore così intenso. la dottoressa ha chiesto a Laura ma che cosa usa, che cosa ha messo di erbe officinali e Laura ha detto io metto solo il grano turco. Giustamente. E quello che magari mangiano fuori, quindi ha tutte le erbe. Esatto, tutte le erbe, vedi? Quindi hanno gli antiossidanti, tutte queste erbe e praticamente il colore si vivizza. Poi ci ha detto anche un'altra cosa lei. Io li allevo piano piano, non in tre mesi. 5-7 mesi, vero? Allora, diciamo che il pollo ci va dai 5-7 mesi. Come è bello sano questo pollo. Questa addirittura ha 9 mesi. Mamma mia. Questo che vuol dire? Che lui con le piante che ha preso nel coso, poi il grano turco, ha un pollo sanissimo. Un pollo quindi da fare un buon brodo potremmo dire. Ecco, bravo. Ma quello che suggeriva la dottoressa era di magari dare ai polli o creare delle bordure. Guardate di quale pianta, ti rendo il cappone. Eccola qua, guardate. Nella calendula. Nella calendula. Eccola qua. La conoscerete, sono quelle margheritone doppie, gialle, basse. Sì, sono in tutti i giardini. Sì, si conviene anche, sono bellissime. Si chiama calendula perché il fiore nasce ogni 10 giorni, poi muore. A calendi, maggio tipo, calendi, eccetera. Alle calendula. O fiorancio. Ecco, guardate qua. È ricca di flavonoidi. E anche, quindi, veramente. Io gli darei anche d'estate a mangiare, perché le mangiano i polli. Quindi diamo anche la calendula, va bene. Riandiamo a mettere là il pollo e prima di iniziare la ricetta con il nostro Andrea, vediamo di capire, un attimo, un cappone. Che caratteristiche ha e da cosa si riconosce, Laura? Il cappone si riconosce appunto perché ha la cresta piccola, poi diciamo che è abbastanza, come razza questo non viene comunque molto grande, però è comunque più grande del pollo o comunque della pollastra. Infatti va da 1,8 kg a 2,7 kg al massimo. E un'altra cosa che possiamo notare che ci permette di riconoscerlo è il fatto che praticamente nella zampa ha questo che si chiama sperone. Praticamente è una protuberanza che viene proprio nella zampa e che quando è un pollo piccolo è molto più piccolo, invece quando via via cresce diventa più grande. Infatti i galli, quelli della riproduzione, addirittura arrivano ad averli anche così lunghi. Quindi è un bel pezzo. Quindi è una sorta di tallone d'Achille per far scoprire l'età del pollo. Sì, sì, sì. Quindi le gambe del pollo, le zampe, possono dire veramente, come ci diciamo sempre, tante cose. Quindi l'età l'abbiamo scoperta. Poi il fatto che comunque anche dalla parte sottostante, praticamente la zampa, nonostante che questi siano già lavati e puliti, praticamente si vede che questi hanno, come si dice, raspato, insomma, perché sono ruspanti. E quindi hanno proprio tutte le unghie, anche si vede un po' sciupate. Poi la zampa stessa, infatti, è anche tutta sciupata. Addirittura questa, insomma, hanno praticamente proprio anche delle piccole, diciamo anche piccole lesoncine, perché sono date da quello che trovano fuori. Quindi ci possono avere tutti i sassolini, così. E sono veramente tremendi, perché anche, veramente, se trovano dei pezzi di sassi o così, sono buoni di spazzarli tutti. Mangiare tutti quelli, mamma mia. In effetti, nel durello, aprendo, si può trovare di tutto. Sassi, sassetti. Si può trovare dei sassolini, si possono trovare, tipo, se arrivano dove ci sono, quando c'è la raccolta delle olive, oppure quando arrivano e ci possono trovare anche nocci delle olive, perché loro beccano tutto. Semi dell'uva? Sì, semi dell'uva. Io ho trovato dei pezzetti proprio di tipo arbustino. Insomma, il pollo è un nivoro. A questo punto, però, ci sono anche altre cose che sono caratteristiche del pollo e sono soprattutto queste porzioni di grasso nella parte perianale, no? Sì, perché il cappone è un pochino più grassino. Queste vanno tolte, però, quando si fa il brodo, no? Sì, solitamente sì. Infatti viene tolto e quindi poi rimane completamente privo di tutto il grasso. Infatti anche nella parte, poi, qui anteriore ne ha veramente comunque pochissimo, perché infatti non si vede. E continua comunque, però, ad avere il colore della carne, che è sempre, diciamo, indicativo di un allevamento fatto all'aperto, che è anche il petto è comunque scuro, è come carne, non è una carne bianca. E la carne anche del coscio, addirittura, tende un po' di più anche al violaceo, quasi allo scuro. Sì, perché è molto muscolo, quindi molto olorato e è scuro. E poi possiamo dire anche che il cappone, oltre a farlo bollito, come è sempre il classico detto, no? Il cappone bollito lo possiamo fare anche in galantina, che è il cappone ripieno. E lo possiamo disossare tutto. E diciamo, a me viene anche già l'acquolina in bocca, perché, cioè, è veramente fantastico. Sono classici delle feste. Sì, ci mettiamo dentro a farsi dai pistacchi, da tante cose del bosco, infatti, tartufo. Poi ci possiamo mettere anche tante erbette, che secondo me ci stanno benissimo. Poi ci possiamo mettere anche, diciamo, un po' di carne diversa, che può essere da un po' di vitello, oppure di... Noi l'abbiamo fatta recentemente, proprio la galantina. Mi sembra addirittura ieri abbiamo fatto invece il pollo, che non era il pollo rosso, ma era il pollo giallo. Non mi ricordo, insomma, un pollo molto, molto più grande dei poli normali, proveniente da Montespertri, sempre allevamento a terra, certificato anche quello, tutto. E quindi l'abbiamo trasformato in galantina, mettendo anche del parmigiano, della carne di vitellone, una buccina di arancio o di limone, viene messa in alcune famiglie, in altre no. e non viene messo del pane mollato, ma alcuni mettono la mortadella, altri come il nostro Giovanni Battista invece ha messo il prosciutto. Il prosciutto si può mettere, infatti. Poi ci possiamo mettere anche un po' d'uovo per amalgamare tutto. Diciamo che possiamo dare parte della nostra fantasia, cioè ci possiamo mettere un po' di tutto, con ciò che i nostri gusti, insomma, li possiamo mettere un po'. Senti, il cappone, quando viene venduto, per esempio, i tuoi, che comunque non ne ha più, quindi, e te lo spettacolo chiameranno, ma tanto lei sono esauriti, deve essere surgelato prima di consumarlo o necessita di una bella lunga frullatura per cui si sta tranquilli? Ma no, diciamo che comunque vengono macellati almeno un paio di giorni prima della consumazione. Però poi nel giro di 4-5 giorni o vengono cucinati, altrimenti vengono surgelati. Quindi se non siete sicuri, avendo un bel cappone, magari, di usarlo, meglio surgelarlo, perché altrimenti si può sciupare. Se uno lo consuma fresco è perfetto, però... La carne di cappone, che qualità ha in più rispetto a un pollo? Perché devo comprare il cappone? Diciamo che il cappone è comunque un animale che ha vissuto nove mesi invece che sei, sette che possano essere. Quindi è anche un po' più grande, ma anche un pochino più tenero. Ah, tenero? No, è un pochino più tenero, sì, il cappone. Ah, io pensavo l'opposto. No, diciamo che di un galletto, che comunque è bello tosto, di sette mesi, è un pochino più tenero. Quindi ha una carne più femminile, potremmo dire, no? Sì, si avvicina di più al femminile. È un pochino più grassina anche. Ma l'hai sentita? Abbiamo un profumo. Ma che cosa stai mettendo, Andrea? Che cosa stai mettendo? C'è un brodo di polipodium e quercia marittima. Polipodium e quercia marittima. Io stavo dicendo fluttuo, sembra di essere qui fra gli elfi. Polipodium, chissà che cos'è, poi vedremo. E la quercia marittima, va bene. Allora, tornando a noi, quindi le qualità sono quelle, della femmina, quindi più morbidezza, però la struttura è la grandezza. Bene, grazie Laura. Grazie a te. Adesso Laura bisogna contattarla direttamente a casa sua, è vero? Perché il mercato non ha più tempo. Però le novità di quest'anno sono la faraona, che è presentata anche da noi. Sì, poi abbiamo la matramuta. La matramuta. Poi abbiamo quindi i polli maschi e femmina e i piccioni. Ecco, i piccioni, quelle coppiette di piccioni che un tempo erano sempre nelle Leopoldine, le case di campagna nostre. Ora possiamo anche non averle nella casa, nei piccioni, perché veniamo da te. Torniamo un attimo in cucina, ma prima di andare in cucina voglio parlare con la dottoressa. Dottoressa, che cos'è il polipodium? Che cosa ha detto lui? Non lo so. Polipodium. Polipodium. È un nome latino evidentemente. Io conosco la Quercus, Robur. Polipodium fa parte delle famiglie delle felci. Ah, una felce. Esatto, una felce allora. Volgarmente qui viene chiamata erba dolce, perché la radice ricorda molto la liquirizia. Quindi non è una quercia. No, no, polipodium e quercia marita. Ah, ecco, mi scusi, non mi tornava quando lui aveva detto il polipodium, insieme, capisci. Insieme che cosa fosse. Non capiva, sì, sì. Senta dottoressa, il vischio, va bene, parliamo del vischio perché nelle case c'è. È lì che ci ha messo però. No, lì dopo parliamo del suo piatto. E il vischio lo prendiamo in mano? Certo. Lo sa perché? Non lo so. Porta buona salute. Mamma mia. È un grande augurio per tutti. Sì, lo facciamo con questo vischio. Sì, sì, sì. È proprio una pianta ben augurale. I Celti, no? Sì, i Celti avevano questa cura enorme del vischio. Eppure essendo un parassita, avenzi un po', lui vive sugli altri. Esattamente. Guardi come è bello. Eppure, pur essendo un parassita, lui riesce, anticamente è stato portato proprio come buon augurio, quindi per Natale, ecco perché. Ecco perché è legato. La salute è bene. Perché porta salute il vischio? Ecco perché, perché la portava veramente la salute? La porta ancora la salute il vischio. Allora... Il vischio è un vasodilatatore, quindi pensi un po' all'arteria e tante altre cose, alla cosa. È anche un ipotensivo. Quante persone oggi hanno la pressione alta? Per stress o per tutto. Ecco, vedi, il vischio è proprio una di quelle piante. Si può anche l'olivo? Insieme all'olivo, però il vischio è proprio... Mirato. Mirato su questa cosa. Quindi il vischio. E quindi essendo un ipotensivo e un vasodilatatore, serve moltissimo anche a quelle persone che, diciamo, hanno problemi un pochino... Circolatori. Circolatori, eccetera, eccetera. Ecco, però, il vischio, come si può usare? Cioè, non pensate, credo, di prenderlo a casa e di... No, no. Perché uno può creare forse dei problemi. Sì. In che cosa viene trasformato? Le foglie? Allora, le dico che il vischio intanto viene dato in pillole, che hanno un estratto di vischio, che sono ben dosate. Non si può prendere il vischio e fare una tisana con 10 grammi, cioè al 10%. Quindi si usano le foglie o i getti nuovi. Ora, questi non sono nuovi, ma le foglie sono buone. Va bene? Sì. Ecco, quindi il decotto massimo, si fa un decotto, perché la foglia è abbastanza duretta, si fa un decotto massimo al 5%, cioè che vuol dire 5 grammi su 100 di acqua. Quando io parlo al 5% sono... Cioè è una foglia praticamente. 5 grammi di foglie è su 100 di acqua. Allora avete capito? Quindi 5 grammi sono su 100 di acqua, lo mettiamo anche questo a freddo? Si può mettere a freddo, certo. Normalmente si bolle due minuti, vedi che cosa gli ho detto, dei cotti, stiamo attenti perché a volte si devono bollire un minuto, due minuti, una seconda, sennò si perdono delle sostanze. Ecco. Il vischio con chi va d'accordo e con chi potenzia l'azione? Io pensavo con l'agrifoglio, con il pugitò. No, col categus, col biancospino. Allora io lo metto giù, idealmente ci serve tenerlo, dovremmo anche baciare sotto il vischio. Allora rimettiamolo qui. Il simbolo di immortalità, di benessere, va proprio nel sistema circolatorio, quindi è una pianta che oggi è molto importante. Quindi è molto importante, grazie perché non si sapeva. Normalmente si fa insieme al biancospino. Allora il biancospino, parliamo del biancospino. Che è il categus, no? Categus. Che abbiamo nelle nostre immagini tratte proprio dal libro. Dal libro, sì. Una mi sembra fosse il pungitopo e l'altra invece il rusco. Il rusco, il categus. Il russo e il biancospino. Ecco. Normalmente si associano. Allora lei troverà anche delle medicine già fatte, vischio e biancospino insieme. Il biancospino è anche sedativo. È sedativo. Normalizza il tono, diciamo, circolatorio. Se uno, per dire, è un po' anche nervoso perché è eccitato, eccitagliosa, ecco il categus. Si può fare insieme una tisana, ma meglio ancora se si fa anche col vischio. Ovviamente tutte queste erbe, anche diventate erbe per tisane, decotte, eccetera, eccetera, possono essere trovate da lei, immagino, no? Sì. Sì, noi usiamo soltanto la filiera corta, siamo contro, sono con lei, Laura e con lui, con il signore. Cioè le erbe nostre, le piante che teniamo per fare tisane, vengono da meno di un mese o due mesi da piantagioni che sono, non vengono dopo sette anni o quattro anni che sono paglia. Ma è importante questo, la filiera corta. Ecco, lei lo dice sempre, quando viene a parlare qui di tisane, dice sempre, attenzione dove le comprate, perché è una tisana vecchia, non fa proprio niente. No, è paglia, è vero? È paglia. Lei che usa tutto il mio. Io sì. A profumo no. Zero. No, zero. E' come il pollo che mangia le farine, quelle farine che il pollo è, non è un pollo tale da chiamarsi pollo. Quindi siccome le erbe si usano per fare le tisane e si usano per il nostro benessere, è chiaro che devono essere abbastanza fresche. Bene. Allora, si riaccomodi qui, intanto torniamo in cucina a realizzare, vieni, vieni, Laura, a realizzare il piatto che è a base di? Agnello. Agnello. E di? Di, adesso mi sono dimenticato, allora, abete rosso. Avevamo il tarassaco, i ricordi. Sì, il tarassaco, prugne e poi abbiamo un po' di patate alla vaniglia per dare dolcezza in fondo al piatto. Benissimo, più abbiamo anche questo fegato, il fegato d'agnello. Sì, sì, il fegato d'agnello. Mamma mia, così bello, molto particolare. Allora, a questo punto andiamo in pubblicità immediatamente. Grazie. 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 Grazie.